Nel Duomo di Pesaro l'ultimo saluto al grande scultore Giuliano Vangi. Sanità, Pesaro combatte le lista d'attesa con il nuovo mammografo. Andrea Torcoletti si candida a sindaco di Vallefoglia. Cantiano, ultima proroga per i ristori ma i conti non tornano. Volley la megaboxlotta ma il primo round playoff va a Scandici. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80. Notiziario che in questa edizione di giovedì 28 marzo apriamo con l'ultimo saluto al maestro Giuliano Vangi. Un gigante della scultura che si è spento martedì scorso all'età di 93 anni e al quale oggi ha reso omaggio la cattedrale di Pesaro. Nel giovedì santo di Pasqua il mondo dell'arte e della cultura pesarese rende omaggio al maestro Giuliano Vangi. Uno dei più grandi scultori transitati a cavallo fra vecchio e nuovo millennio. Nel Duomo di Pesaro, al cospetto di quell'iconografia cristiana tante volte rappresentata e rivisitata dalla matita e dallo scalpello di Vangi, la città si è stretta nell'ultimo saluto ad un uomo che con la sua straordinaria capacità espressiva ha lasciato tante tracce del suo passaggio sulla vita terrena. Da Pesaro fino al Giappone dove da anni esiste il Museo Vangi. A stringersi all'affetto della moglie Graziella e dei figli Marco e Dario, la gratitudine della città di Pesaro, così come quella della vicina Fano in cui Vangi ha intrecciato una preziosa connessione artistica, oltre alla Toscana Barberino del Mugello, luogo d'origine in cui Vangi nacque, 93 anni or sono. Tre città rappresentate in prima fila dai sindaci in fascia tricolore presenti in cattedrale al fianco di altre autorità, dal prefetto greco agli esponenti della regione fino alla presenza a Pesaro di Vittorio Sgarbi, che da critico d'arte fu vicino a Vangi sia nell'inaugurazione del Museo di Osaka sia nella personale allestita a Roveredo. Durante l'eseque il parroco Don Stefano Brizzi ha sottolineato l'umanità e la sensibilità dell'artista Vangi, una grandezza artistica che Pesaro omagerà con un museo dedicato alla sua opera, una volta completata la riqualificazione di Palazzo Mazzolari Mosca. Ornella Ordonselli, pensionata di 83 anni, è morta ieri pomeriggio a Calcinelli, travolta da un'auto mentre era in sella al suo scooter. Per causa in via d'accertamento, una Peugeot 208 guidata da un trentenne di origine ucraina avrebbe azzardato un sorpasso urtando un'auto invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva lo scooter. La donna residente a Lucrezia è stata disarcionata dal ciclomotore e sbalzata di diversi metri perdendo la vita per la violenza dell'impatto. Solo ferite lievi per il conducente dell'auto. Lasciamo la cronaca e ci spostiamo al distretto sanitario pesarese delle Cinque Torri dove da questo mese di marzo è entrato in funzione il nuovo mammografo, primo macchinario per la diagnostica senologica acquistato nella regione Marche grazie a fondi PNRR. Un dispositivo all'avanguardia che oltre all'eccellenza di prestazioni consentirà di snellire il perdurante problema delle liste d'attesa. Entro maggio saranno più di 2000 le prestazioni erogate. Dopo un'attesa lunga sei anni, il nuovo mammografo installato nel distretto sanitario pesarese di Viananterlo scorso 12 marzo viaggia spedito per ridurre il gap sul perdurante problema delle liste d'attesa. Lo fa con prestazioni d'eccellenza fornite da un macchinario all'avanguardia che questa mattina ha avuto il suo taglio del nastro istituzionale alla presenza del personale medico dell'azienda sanitaria territoriale coinvolto nell'erogazione delle prestazioni e degli esponenti di regione Marche e comune di Pesaro che hanno spinto verso questo traguardo. Questo macchinario è il top gamme delle mammografie può servire sia per fare lo screening che per fare le diagnosi cliniche ha una tempistica di esecuzione dell'esame molto più rapida e ha una precisione nel momento in cui individua una lesione di focalizzare il punto in cui c'è questa lesione per fare un discernimento se si tratta di una lesione benigna di un artefatto di una lesione maligna quindi a livello di risposta nell'esame mammografico molto più precisa e puntuale rispetto al mammografo che c'era precedentemente e quindi chiaramente ci permette sia di fare diagnosi precoce nell'ambito dello screening che accertamenti diagnostici nel caso in cui la donna ha già conoscenza di un nodulo. Prestazioni d'eccellenza abbinate ad una rapidità di esecuzione funzionale a ridurre le liste d'attesa. Chiaramente essendo più rapidi ci permette di utilizzare un tempo più breve dei 15, 20, 25 minuti di un altro esame quindi se in una giornata riuscivamo a fare un tot numero di donne in questo caso aumenterà il numero delle prestazioni erogate giornalmente e quindi potremmo essere in grado di ridurre la tempistica sui tempi d'attesa per questo tipo di esame. Si tratta del primo dispositivo per la diagnostica senologica in funzione acquistato nella Regione Marche con i fondi del PNRR un investimento di oltre 250 mila euro. Stiamo investendo tantissime ed è una scelta condivisa da tutta la giunta regionale sul pesarese per evitare e per limitare l'afflusso verso altre regioni e soprattutto per cercare di limitare la mobilità passiva ma garantendo un servizio importante. Questo è un segnale che io voglio sottolineare per la delicatezza della condizione dei servizi sanitari nel pesarese ma soprattutto per la carenza di fondi che il servizio sanitario deve affrontare. Spesso si tralascia il fatto che l'invecchiamento della popolazione fa aumentare notevolmente la domanda di servizi sanitari e con un sistema italiano di fiscalità che è arrivato al massimo per le persone fisiche e per le imprese e un grande debito pubblico si fa sempre più fatica ad aumentare il finanziamento. Quindi per fortuna quest'anno il governo lo ha aumentato i 3 miliardi per tutto il nostro paese quindi c'è un segnale positivo ma chiaramente deve anche contare la riorganizzazione l'efficientamento del sistema e soprattutto anche l'appropriatezza delle prestazioni. Un grazie all'assessore Santamartine e al Presidente Acquaroli che hanno deciso di investire 250 mila euro in questo macchinario all'avanguardia di tecnologia avanzatissima per lo screening per le nostre donne quindi veramente un momento di felicità e quindi grazie alla regione Marche continuiamo così è il terzo macchinario che inauguriamo nel pochissimo tempo altri macchinari verranno inaugurati a breve questa è la dimostrazione dell'attenzione da parte della regione Marche della giunta Acquaroli dell'assessore Saltamartini e anche dell'intervento e della spinta anche dei consiglieri regionali del territorio e dei consiglieri comunali anche di Pesor che hanno spinto fortemente per questo macchinario. Ed ora la politica è stata presentata oggi la lista civica Vallefoglia cambia che sostiene la candidatura di Andrea Torcoletti a sindaco di Vallefoglia in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Dalla battaglia contro il biodigestore di Talacchio a quella contro la discarica di riceci fino alla candidatura a sindaco di Vallefoglia. Andrea Torcoletti, presidente dell'associazione Diversamente che si batte da 4 anni per la tutela e valorizzazione della Vallata del Foglia si lancia ora nella sfida elettorale verso le amministrative dell'8 e 9 giugno presentando la lista civica indipendente Vallefoglia cambia. La cosa che mi ha colpito di più in tutti questi anni è il distacco che esiste tra i cittadini tra noi e chi ci amministra tra noi e la pubblica amministrazione. Un distacco fatto di assenza di dialogo di partecipazione di confronto e a volte anche di rispetto. Noi in 4 anni non siamo riusciti ad avere un appuntamento con l'amministrazione di Vallefoglia. Ci hanno praticamente ignorato forse pensando erroneamente che in questo modo avremmo mollato. Siamo invece qui oggi ancora più determinati a presentare un progetto di cittadinanza attiva che vuole avere un ruolo e uno spazio nell'amministrazione di Vallefoglia. I pilastri della nostra azione sono sicuramente la trasparenza e la partecipazione come diritti fondamentali senza dimenticare la tutela e la salvaguardia della salute, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente ed anche della nostra qualità della vita. Un cambiamento che vuole partire dalla mentalità dei cittadini. Vogliamo soprattutto dare motivazione alle persone affinché tornino ad impegnarsi per la cosa pubblica. Non parlerò di liste, ma parlerò di metodo. Il metodo che noi vogliamo proporre è un metodo diverso, fondato sul merito, sulla competenza e sulla passione. Vogliamo che la gente venga e ci segua perché noi diamo una possibilità di cambiamento, perché noi rappresentiamo un'alternativa concreta, reale. Cambiamento che punta ad affrancare Vallefoglia da una dipendenza dal capoluogo di provincia. Vogliamo che Vallefoglia riduca la dipendenza da Pesaro, che Vallefoglia non sia e non diventi la periferia sfortunata di Pesaro. Com'è possibile questo? Questo secondo noi è possibile pensarlo, immaginarlo e costruirlo attraverso il coinvolgimento dei comuni confinanti, rivedendo, siamo qui oggi nella sede dell'Unione Pian del Bruscolo, proprio questo progetto, rivedendo il progetto dell'Unione che è diventato oggi poco più di una scatola vuota con molte inefficienze, dei costi importanti e poca efficacia. Sabato 6 aprile sarà inaugurata a Montecchio la sede elettorale della lista civica. Deve essere un progetto aperto, aperto a tutti, a tutti i soggetti che a diverso titolo costituiscono il tessuto sociale di Vallefoglia. Deve essere aperto ai giovani, senza dimenticare agli anziani e senza lasciare indietro le persone fragili. Una forza che parta dalla gente e insieme alla gente vogliamo costruire un patto, perché pensiamo che se tutti noi, ognuno di noi, crede e continui a credere in questo, ci sarà un effetto moltiplicatore, non tanto di consensi elettorali, ma un effetto moltiplicatore di quelle che sono le emozioni, l'energia positiva che costituisce la base fondamentale su cui costruire una comunità. Ci spostiamo a Cantiano, dove domenica 31 marzo scade l'ultima proroga per richiedere ristori per i danni post alluvione del settembre 2022. Una situazione che a causa di miopi norme burocratiche sta creando preoccupanti esclusioni, come ci ricorda il sindaco Alessandro Piccini in questa intervista. Sindaco Alessandro Piccini, con questo mese di marzo si conclude l'ultima possibilità di proroga per la richiesta dei contributi per i ristori post alluvione, però mi sembra che i conti non tornino per quello che è i danni effettivi e quelli che sono i risarcimento che stiano arrivando. Esatto, purtroppo questioni formali stanno diventando sostanziali come impedimenti alla fase più importante di ristoro a privati cittadini e di impresa. Ricordo che al momento abbiamo erogato i primi ristori, quelli che fanno capo alla protezione civile nazionale, di 5 mila euro massimo a private abitazioni e 20 mila euro per le attività di impresa, che sono poca cosa rispetto a una quantificazione complessiva dei danni che tra privati e imprese sviluppa quasi 10 milioni di euro. Il problema delle formalità, delle procedure, una su tutte è quella della conformità urbanistica dell'immobile al momento dell'evento alluvionale con l'impossabilità di sanare anche quelle piccole difformità che un centro storico inevitabilmente si è portato dietro negli anni preclude la possibilità di accesso ai ristori, il che significa che abitazioni fortemente compromesse, mi riferisco soprattutto anche a seconde case, rimarranno tali se lo Stato non introduce dei meccanismi che possano superare questi vizi di forma e concedere la possibilità di accesso. Tra l'altro in una differenziazione che chiaramente grida vendetta di disparità di trattamento con la vicina Emilia Romagna in cui le sonatorie sono state permesse in corsa e quindi si dà la possibilità al cittadino di poter sanare la situazione prima di accedere ai ristori. Quindi mi auguro che nonostante la proroga credo che sia perentoria questa volta si possa riaprire la possibilità per chi per un vizio di forma legata a una finestra spostata di 10 cm oppure un tramezzo che nel tempo si è creato non possa ecco insomma accedere a questa fase rispetto a dei danni magari di qualche decina di migliaia di euro. Da domani venerdì santo fino a lunedì di Pasqua tante funzioni religiose in tutto il territorio e oggi le nostre telecamere si sono accese in un luogo assolutamente suggestivo come il borgo di Castel di Mezzo sul San Bartolo per presentare la festa del Santissimo Crocifisso. Sì lunedì di Pasqua Castel di Mezzo è una grande festa perché si ricorda l'arrivo del Crocifisso dal mare. A Castel di Mezzo infatti è custodito un crocifisso di inizio 1400 opera di Antonio de Bonvesin uno scultore veneto un crocifisso da sempre considerato miracoloso infatti nel santuario ci sono tanti ex voto dedicati a questo a questo crocifisso da quando io sono parroco nel 2011 sono stati donati tre ex voto al crocifisso proprio per grazia per grazia ricevuta uno di questi mi è particolarmente caro una ragazza da poco sposata non poteva avere bambini e dopo aver fatto una novena Santissimo Crucifisso riuscì a concepire un bambino portò avanti la gravidanza aveva problemi di cuore tutti i medici gli avevano detto che la gravidanza non sarebbe andata bene invece questo bambino è nato e oggi fa la terza media e sta diventando grande e quindi è un momento molto bello per tutto il paese la chiesa del Santissimo Crucifisso custodisce anche un'altra opera importante è la Palla d'Altare di Girolamo Marchesi un'opera d'inizio 1500 che ritrae Maria col bambino e ai suoi fianchi Santa Pollinare e San Cristoforo la particolarità di quest'opera è che ci sono due Gesù Bambini quello tenuto in braccio da Maria e quello sulle spalle di San Cristoforo è un'opera che insegna a tutti come la carità di Cristo sia il servizio dei fratelli conoscendo la storia di San Cristoforo questo risulta evidente la festa si struttura al mattino con le messe ad ogni ora a partire dalle 7 e mezza fino alle 10 e 30 con sempre dei sacerdoti disponibili per la confessione poi nel pomeriggio alle 15 e 30 ci sarà una bella processione con l'urna della Santa Martire Vittoria la Santa del Santuario una martire romana le cui reliquie arrivarono a Castel di Mezzo nel 1877 poi dopo la messa delle 16 e 30 ci sarà la banda di Fiorenzuole Colombarone che aglietterà tutti e sarà distribuito vino e pagnotta di Pasqua per tutti da luoghi di culto secolari a comunità parrocchiali che si stanno formando e crescendo laddove una chiesa non c'è parliamo del quartiere pesarese della Torraccia dove proseguono le funzioni religiosi gravitanti attorno alla tensostruttura allestrita fra via dei Frassini piazzale vittime dell'Aisel in queste immagini vi mostriamo le ultime due funzioni religiose celebrate con la processione per la Domenica delle Palme e la precedente celebrazione della Via Crucis una comunità parrocchiale sempre più ampia quella che si sta formando nel popoloso quartiere interno alla diocesi curata da Don Michele Rossini comunità che si ritroverà anche domenica 7 aprile alle 18 per la funzione religiosa della Domenica in Albis e restando in tema sacro il 4 aprile verrà presentato un intervento di valorizzazione dei mosaici presenti nel sottosuolo del Duomo di Pesaro si tratta di un progetto frutto della collaborazione fra arcidiocesi parrocchia di Santa Maria Assunta fondazione scavolina e soprintendenza che avrà come oggetto l'ampliamento delle finestrature attualmente esistenti nella navata centrale e la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione le nuove finestre seguiranno le modalità esecutive di quelle già presenti e verranno posizionate in sostituzione del rivestimento pavimentale in pietra con l'obiettivo di ampliare la visibilità dei due tappeti musivi sovrapposti presenti nel piano sotterraneo l'esecuzione dell'opera è affidata all'azienda Renco e continuano gli incontri capitali di Pesaro capitale della cultura domani venerdì 29 marzo alle 18 nella lusfera di Piazza del Popolo il medico virologo Roberto Burioni presenterà il suo ultimo libro dal titolo Matchpoint come la scienza sta sconfiggendo il cancro in dialogo con la giornalista Simonetta Marfoglia e parte anche una suggestiva collaborazione fra il CAI club alpino italiano e il conservatorio Rossini che genera i suoni degli appennini una rassegna di otto appuntamenti che uniranno performance musicali a percorsi all'interno dei più suggestivi sentieri del nostro entroterra la rassegna partirà il 7 aprile sul monte Petrano un nuovo particolare progetto di dossier per Pesaro capitale della cultura 2024 parte infatti domani nella chiesa di San Domenico di Fano reali meraviglie progetto promosso dall'associazione umanesimo artificiale i confini tra umano e macchina naturale e artificiale perdono ogni valore ontologico e l'uomo diventa letteralmente permeato e penetrato dalla tecnologia parte da questo assunto il nuovo progetto di dossier di Pesaro 2024 si chiama reali meraviglie e coordinato dall'associazione umanesimo artificiale che attraverso esperienze performative e immersive di forte impatto visivo metterà al centro le tecnologie esponenziali del presente e prossimo futuro una riflessione portata avanti attraverso artisti internazionali con un primo appuntamento dal 29 al 31 marzo a Fano nella Pinacoteca San Domenico gli appuntamenti inizieranno questo weekend 29, 30 e 31 a Fano alla Pinacoteca San Domenico in cui avremo Neil Arbison e Paul Lombarte che sono due cyborg Neil Arbison tra l'altro è anche famoso l'avrete visto immagino perché è quel cyborg che ha un'antenna in testa e faranno un laboratorio quindi costruiranno modificheranno un pianoforte con delle lampadine dei piezo elettrici e Neil lo utilizzerà per suonare sabato sera alle 21 alla Pinacoteca San Domenico di Fano e farà questa performance per cui attraverso questa sua antenna lui sentirà i suoni perché ha questa forma di daltonismo per cui vede il mondo in bianco e nero e quindi questa antenna gli fa percepire i colori questi colori le frequenze dei colori si trasformano in dei microtoni che lui sente all'interno del suo cervello quindi suonerà questo pianoforte si illumineranno queste lampadine colorate e poi lui punterà la sua antenna e nelle casse si sentirà quello che lui sentirà nel cervello quindi una performance unica non l'ha quasi mai fatta a livello internazionale e quindi venerdì dal pomeriggio sabato tutto il giorno ci sarà questo laboratorio per cui chiunque vuole può venire ad aiutare Neil a costruire questo pianoforte e poi sabato c'è questa performance performance è ingresso gratuito senza prenotazione quindi invitiamo tutti a venire e concludiamo con le notizie di sport fra poco alle 20.45 in campo la Vispesero nel match prepasquale al Benelli contro la Lucchese un match che la Vis è obbligata a vincere se vuole sperare di evitare i play-out nelle cinque partite restanti della regular season sono invece iniziati i play-off di pallavolo per la Megapost Vallefoglia che ieri sera ha perso la gara d'andata per 3-1 sul campo toscano della Sevino del Bene Scandici metà della squadra di pistola è stata colpita da un attacco influenzale ridotte all'osso le rotazioni con Mancini rimasta a Pesaro mentre Gichema Giovannini Gardini e Mingardi hanno raggiunto la squadra solo poche ore prima della partita nonostante tutto dopo i primi due set persi con fatica 25-16 e 25-17 la Megabox è rimersa nel terzo set vinto 25-21 e ha sfiorato il tie-break perdendo il quarto 25-23 sabato 30 alle 15.30 il ritorno al Pala Megabox in campo ieri anche il basket di Serie B e c'è stata la prima sconfitta nella fase play-in per l'Ital Service Loreto Pesaro che dopo quattro vittorie di fila è stata sconfitta all'over time con la Virtus Roma per 79-73 si conclude qui il nostro telegiornale Rossini TV ma continuano gli spazi informativi della nostra serata a cominciare da quello subito dopo il TG alle 20 andremo a conoscere il ritorno degli amanti e l'itinerario della bellezza che sono stati protagonisti nello scorso weekend a Fossombrone come detto appuntamento alle ore 20 e poi giovedì sera di sport e di basket con insieme a Canetro il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in questo momento delicatissimo per la squadra Bianco-Rossa la puntata di stasera sarà uno speciale tifosi con il tifoso Maurizio Crapanzano ospite in studio assieme al presidente del club Donucci Pesero Lorenzo Cortiglioni oltre naturalmente alla possibilità di interazione in diretta di voi tifosi attraverso il canale e attraverso il numero Whatsapp dedicato 370-366-7210 dunque insieme a Canestro condotto da Elisabetta Ferri questa sera alle 21.20 altra diretta è quella fissa del mattino alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che mi tiene compagnia dal lunedì al sabato come detto in diretta alle 7.20 e dunque vi aspetto domattina per Buongiorno Rossini si chiude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata